Beh, vediamo un po' che c'è su Facebook, qualcosa su YouTube, non lo so. Il coccodrillo? Come fa? Come fa su? Vediamo. Oggi tutti insieme. Ok, ok, aspetta un attimo, aspetta. Oggi tutti insieme cercheremo di imparare... Oggi tutti insieme. Come fanno per parlare fra di loro gli animali? Gli animali! Come fa il cane? E il gatto? Ma io dico ma mannaggia la puttana perché... L'asinello, i-o, la mucca, la rana. Come fa la rana? E il coccodrillo? E il coccodrillo? Oh! Se non lo sa lui regalo, non so che dico. E il coccodrillo come fa? Ma c'è nessuno che lo sa. Non metta una capota, che con i denti ponga, che molto spesso pianga. Oggi i denti ponga, che molto spesso pianga. Però quando è coccodrillo come fa sto coccodrillo? E il coccodrillo come fa? Non c'è nessuno. Cocodrillo come fa? Non c'è nessuno che lo sa. Che lo sa. Sarrebbe a mano silla. Oddio, dico come? Ma non silla. Sorsiglia camomilla. E il mezzo addormentato se ne va. Alleluia che se ne va sto coccodrillo, perché? Madonna santa, non gliela facevo più, non gliela facevo. Guardo sui giornali. No, no, boh, non riparti. Non riparti, per favore, che ti senti male. Non riparti, non riparti. Guardo sui giornali. Non c'è sito niente. Sembra che il problema non importa. Ma se per casa al mondo c'è qualcuno che lo sa. Per favore, regà. Qualcuno che lo sa, per favore. Qualcuno che lo fa. Aspetta, aspetta. Qualcuno che lo fa, regà. Porca mia, non fa zitta. Il coccorrillo come fa? Non c'è nessuno che lo sa. Non c'è proprio nessuno. Non c'è proprio nessuno. Non c'è proprio nessuno. Si dice mangi troppo, non metta mai il cappotto. Che con i denti... Oddio, io non ce la faccio. Lo suo coccorrillo, il coccorrillo come fa? Non c'è nessuno che lo sa. Oddio, regà, se sta senti male, se sta senti male. Aspetta, aspetta. Come? Riparti, riparti. Non c'è nessuno che lo sa. C'è rabbia, ma non si lascia. Dai, dai, che sta maravine, dai. Per favore. Non è già addormentato, se ne vanno, 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 vanno. Vanno, 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 se ne vanno. Oddio. Vanno, 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 vanno.